registra ok ora si madonna che l'agoni che tiri quando inizia a registrare non stavo cadendo eh covra non facciamo troppo lì oh porca puttana no mi stavo davvero il comando che si 0 2 mastardo chi era edu merda attenzione video ha dato tasso di bestemmie comunque si vedo anche un po di farfallio marco vuoi morire da giovane te spara spari morto e cazzo mi sta sparando ma va a culo marco 19 9 ma va a far culo dentro la basca da bagno dai se ne fanno il bagno ma hai detto uno non può farci un bagno rilassante che gli sbio erano quattro pistolate nel culo ciao cristiana orcudino andro morto attenzione il bagno no 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 chi è non è in bagno dai oggi oggi via 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 ho paura le cazzo questo le cazzo ma ma che mi ho detto adesso voglio pinto non adesso sangue ok sta sparando sabato madonna che non ho visto più un cazzo io oh madonna quanto lagga non riesco a giocare io fraps laga troppo che roba era quella merda di fraps la che è incapace di no io non riesco a giocare così mi va troppo a scattoni non so neanche il perché ecco guarda viene uno che viene da ok adesso è smitragliato mitragliata da kg no marco merda ma che che strozzo col cecchino oh ma che cazzo mi sta sparando ah io non vuole morire sono troppo giovane ma ma aspetta oh ma è stato marco attenzione siiii l'uomo non c'è lo spavano qui a destra eh che è il muro che è eh io non devo guardare quel cichissimo su c'è parte tra la porta da me cristiana questa è la serata ma perché c'è un cadavere che nuota nell'acqua aia no maledetto mi ha fatto tutta cavia chi c'è qua vicino chi c'è qua oh ho visto un altro no ma semplicemente figa tante matti aia maledetto oh adesso ti trovo giugido veramente cazzo è appena morto come un povero deficiente chi sei che siete in bagno chi sei che siete in bagno quale vai mi stavi mirando a mare io canaio ma vaia io ho ben due colpi a tirare ho visto ho visto ma non ti ho messo qui bagnata oh come andando tre fori tre fori come andando ma da onde è che copinelli ma devo cazzo di me sparare perché è che è dietro un sasso è appena morto è un povero che è un povero ahahahahahahah è appena morto dentro il caso dentro il caso strivando qualcuno ahahahahahahahahahahah vabbè ma chi è su qua no ma il cristal sta iniziando di imparare bene oh che cazzo mi stava sparando allora tu sono le pove, ho mati e laga come non so cosa o sono mica laggo talmente tanto che ne met... no maledetto come chiedi le pove andiamo di a ugiva e pollo ah si pollo non può parlare perché sennò è abbastanza di happy ma che ho sennò che rompe le bote schifo ciao Edo cos'è più e bote ciao 3 minuti, 40 di ping parla che ti prendi il raffreddore se sei a finestra oh non c'è una pistola di merda oh che sei Edo che ha sentito dire ciò che ti serve a me no 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 eh bambi che cazzo no maledetto per favore Edo Edo continuate un attimo che c'era che c'era ARCOSIO dai 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 continuiti dai 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 continuiti madonna oh intanto marco merda è primo andai in bagno un attimo no eh eh ma proprio un attimo eh ma che l'attimo ma chi sei qua no no ma che sei uno ha detto no che sei uno in mezzo all'acqua ti ho è Gesù Cristo tutti i barricati che sei 8 persone che si viva entrare in casa ti aspetta ti aspetta un attimo e uno e uno fa una puttana una puttanella sull'angolo del in penombra venga fatto bene testa bene eeeh eeeh io andrei ora a tirare a casa secondo intanto eeeh attenzione abbiamo ben tanto mappa dove che praticamente mi piace pare schicciare il tasto ESC e posto e aspettare adesso eeeh eeeh edo si si tutto nella norma where is edo prima vittima chi sa mappa al suo canale mappa che negri è il canale chi cazzo qua il canale marco c'è una attenzione a marco camperato ah shit eeeh adesso c'è camper marco uno su arriva eeeh mi mi lago ma sapo su car due che pezzi tre che faccia da culo eeeh eeeh arrivano qualsiasi altro ma c'è da dire tano che non c'è altro no maori si ma dai è impossibile giocare pollo controlla la porta di là dopo tutto se si allarga marco comunque l'anno aspetta eeeh ciao quavrà occhio uno dai odio 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 che faccia da culo eh marco si occupa la culo cazzo di camperone mappa agri pollo quando cazzo che risusciti si mi muovi a tutto il ring ma neanche ho più conseguito pollo cazzo che stia bestemmiando è pollo che sta bestemmiando in questo momento marco uno ecco qua bastardi sti prevedibili ormai ecco che l'aug laiga è un'arma no 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 stavo arrivato madonna stavo furto un arrivato ma perché non staravo mi stavo drogando cazzo uno su casa no non è l'arma giusta cazzo devo ricaricare si è incontrato un uomo sulla porta oh mancide ho salvato eh 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 ce l'ho fatto aia sto venendo in su madonna cazzo cazzo abbiamo un cobra talebano cazzo è no 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 oh ecco marco vaffanculo porco puttano no è il medici di team vabbè io sono andato qua vabbè lo che ho sparato a pull e poi lo che un po' si è alzà è andato per aria eh si che la connessione non torna nella normalità però l'ho trovato cazzo cazzo moro torno vita moro marco marco soltanto ha caricato un giotto mamma mia che stavano cadere cazzo smitragliatore seriale che mi f*** devo scaricare un caricatore eh tante ho fatto solo col tanto di danno ehi morca puttana oh marco ma è il palmer di coglioni ehi ehi ti ha crivellato ma guarda che ne ho ma i due i due hanno crivellato una persona sola marco sono una zoccola difatti marco nascosto campionato no dio bai ma che mai no mastarda questo non è pull non posso neanche fregare ho già provato no 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 madonna oh con cautela questo video che mi tocca censurarlo e cancellarlo definitivamente c'è un rifiuto umano con le gambe nono 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 maledetto mamma polvo toccava radoso ma chi sei la specie del penoccio marco mi sta facendo la cacca sul bicchiere non sta a far la cacca sul bicchiere a meno quello nel caso di smith radiatore seriale maledetto solo con la pizzo minchia no che vuole spellermi che no polvo sei una merda anche il botta adesso sono un po' di coglioni ciao marco ma che stronzio perché lì non lo so eh vabbè squadra svantaggiata mi sa eh che cazzo hai sta sparando ma di cazzo siamo qua ah la polla addirittura che è cambiato per non crepare ogni 3 secondi bravo pollo ma perché ci sono bot che cazzo ah non erano ah allora oh agri temerò di coglioni eh marco mo dai edu sei una merda col giochino eh e direi che è un marco no 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 oh agri marco te ah no no quanti fio agri l'ho mortissimo no 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 stavo ricaricando fai un culo no io c'è lo po no eeeh oh tu de merda oh mio oh mio oh mio eh caso eh caso qui che amo per questo no si questo stai a me fuori a leggle fattoria oh marco sei una merda no vittoria attenzione attenzione no guarda il tuo ping che tiro no questa mamma che figata ciao Cristian questa è bellissima maledetto pensavi te di fregarmi ah quindi posso fare l'infame qua maledetto marco maledetto il via pompa a tatticone no 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 ha finito i colpi è normale p90 bene ma ma adesso cambio arma è adatta serve misure più restrittive no bollo merda col pompa copione bellissima sta mappa qua una bestemmia unica cazzo marco merda cazzo casino non ho capito più cazzo eeeh eeeh che è sto zecchino vaffanculo camperone ecco ecco l'arma che c'è potente per tutti questo è mattica laga questo è marco merda con il fucile a bomba marco è appena morto madonna il fucile a pollo pollo cazzo 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 vaffanculo madonna 98 98 è amissibile devi farmi devi farmi la cazzo vaffanculo ma chi è resto qua edu merda camperato oh 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 che cazzo ma dai in figa che team work mamma mia i due i due mamma che puttana che stronzi occhio eeeh eeeh copertura mi sto facendo una nazione medica grazie cazzo eeeh si buonanotte stavo ricaricando vaffanculo no ho appena fatto fuori matti che 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 cazzo no marco su merda eri un lupo morto eri un lupo morto ma stavo madonna ho fatto stragi eh no basta sono 4 di vita adesso attenzione puttana 4 di vita fire 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 team 4 no ma senza colpi ho toccato un gol solo un colpo solo ma non è possibile oh marco finito di cagarti adesso quando spari madonna che lagga madonna potrò adesso che ciappi uno ma vai nooo un chilo di pane madonna di dio marco 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 è morto bene fatto eh vaffanculo stavo facendo inizio del medico un po' sottrogaio si vaffanculo stavo facendo inizio del medico ma ma non è possibile farlo parla nooo ahahah ahahah c'è 39 e 21 no no non è possibile copare uno dieci volte no 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 manca agri non mi ha da meno eh attenzione eh attenzione ok attenzione ok attenzione ok attenzione ok madonna potrò è sempre da dio ma 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 no ma ma no ma ma un altra zitto E che cazzo? Morirà la cazzo? Oh Marco, te sto cazzo di pompa rotti coglioni Ma 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 è impossibile giocare così Ma dai, sto laggando, non so neanche il perchè Cazzo adesso, ssd bambini Ma, non cazzo Vendo, uno respawns, avghè e viene da dietro Oh, anche laggando che sto facendo con la destra Ah, va bene, Marco, sei una merda sto taggando Eh, vede uno si è cucciano un attimo dice aspetta che mi rilasso Che cosa va umano, cioè non sei possibile Aspetta che mi funto un attimo Guarda che roba è impossì Uno dice, beh, ma è una scuresa un po' più profonda del solito. Che bocca, non ti sei morto! Che schifo. Ma Eto, perché sbori in bocca a Polotta? Che merda. No, ma guarda che... La cosa è assai preoccupante. No, ma gli dice, ti giuro che non riesco nemmeno a giocare i 60 kill. Eh, ragazzi, 49 kill, diabo. E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci.